Una squadra in piena zona play-out, che era partita con ben altri obiettivi. Parliamo del Sestri Levante. Compagine del girone, e di Serie D, la quale ha esonerato il proprio tecnico Cristian Amoroso. Svariati i nomi monitorati dai Rossoblu per sostituire l'ex trainer del Pisa, e tra questi ci sarebbe anche Paolo Stringara, in foto, ex tecnico di Perugia, Taranto, Lucchese, Cavese, Foggia e Grosseto tra i pro.